Si stringe il cerchio degli inquirenti intorno ai medici dell'ospedale Ruggi che avrebbero fatto sparire il reperto dell'operazione subita da Palmina Casanova, la 56enne commerciante di Atrani, morta in seguito ad un banale intervento di laparoscopia per l'asportazione di cisti ovariche. La lista dei camici bianchi si riduce da 13 a 7, mentre sarebbero almeno 4 i medici finiti nel mirino della procura di Salerno per la scomparsa di quel tratto di intestino che avrebbe potuto chiarire subito le cause della morte. Esclusi al momento i medici del presidio Costa da Malfi di Ravello, dove la donna era stata portata quando le sue condizioni erano peggiorate in seguito alle dimissioni dal Ruggi. I carabinieri del Nassa, i ordini del capitano Gianfranco Desario, hanno ricostruito tutti i passaggi che hanno portato quel tratto intestinale, prova madre per accertare se vi è stata negligenza dei medici nel corso dell'intervento chirurgico, dalla sala operatoria al reparto di rianimazione, dove doveva essere conservato fino alla consegna agli anatomopatologi. Il reperto invece è sparito, qualcuno si è preoccupato di occultare quella prova oppure se ne è sbarazzato troppo in fretta. Il PM ha anche fatto acquisire l'atto con il quale il commissario dell'azienda ospedaliera, Nicola Cantone, ha motivato la decisione di revocare dall'incarico il primario del reparto di rianimazione. Accertato che il reperto è stato già incenerito, i carabinieri hanno cercato di ripercorrere le tappe del calvario di Palmina tra il primo intervento e la paroscopia e la sua improvvisa morte attraverso l'analisi delle cartelle cliniche. Ora si attendono gli esiti degli esami effettuati dal pool di medici nominati dalla procura.